Buongiorno a Stefano Buelli della boutique del dolce, collaboratore del maestro Zoya. Buongiorno a Stefano, buona presenza al Re Panettone 2015. Essere presenti a questa manifestazione vuol dire prima di tutto qualità e artigianalità. Soprattutto qualità e artigianalità. Come riproponete queste caratteristiche essenziali? È proprio la base del nostro lavoro, proprio essendo artigiani e controllare sempre la qualità delle materie prime. Molta passione e molto amore nella lavorazione dei nostri ingredienti. E soprattutto in questo caso il panettone, che è uno dei nostri prodotti tipici più importanti. So che tra i vostri prodotti di punta avete il famosissimo panettone alle noci. Abbiamo mostrato molto panettone alle noci, dove ci sono venite proprio le noci, le uvette e le gocce di cioccolato. Tantissimo burro, stare molto attenti all'abitazione per rendere un panettone sofficio, fragrante e molto gustoso. Come sta andando questa edizione? Bene, molto bene. Il pasto di rotissio nuova è molto bella, tantissima gente e un ottimo risultato anche di video. Avete ritrovato la schiera di vostri pedelissimi? Bellissimi, sì, come tutti gli amici, come sempre, siamo voglioti, fieri, anche questo. Allora, vi facciamo le nostre congratulazioni per i vostri prodotti e speriamo di vedervi anche l'anno prossimo. Esattro. Buone feste. Grazie. Grazie a tutti.